Ciao ragazzi, siamo i Bastard Sons of Dioniso, fieri testimonial del Forte delle Benne di Leivico Terme e siamo qui per chiedervi una cosa, di supportare appunto il Forte per questo bando europeo, 176 volte Europa ma ricordiamo chi sono i veri testimonial o no mi chiede? I veri testimonial sono coloro che andranno a visitare e hanno già visitato il Forte quindi unitevi